E adesso parliamo di coronavirus. La Puglia resta in fascia gialla con l'indice RT di trasmissibilità allo 0,95. Preoccupa però la diffusione della variante inglese e la risalita del tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva. Un andamento della curva epidemiologica in leggera salita che ha spinto alcuni sindaci a firmare delle ordinanze più ristrettive. Sentite. La Puglia resta in fascia gialla. Secondo le valutazioni fatte dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, la regione non è tra quelle dal rischio contagio elevato, confermato anche dall'indice di trasmissibilità, l'RT, fermo sotto l'1 essendosi assestato allo 0,95. La permanenza in area cromatica gialla si scontra però con un aumento del tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e con la diffusione della variante inglese che preoccupa. Perché in 28 dei 59 campioni di tamponi positivi al virus processati lo scorso 17 febbraio è stata trovata la variante inglese del virus. Lo ha reso noto l'assessore regionale alla Sanità della Puglia Pierluigi Lopalco, evidenziando che non sono state individuate né la variante brasiliana né quella sudafricana. E' confermata, spiega, la necessità di alzare il livello di attenzione sulla diffusione delle varianti del virus, che ieri ha comportato l'ingresso di 15 malati covid in terapia intensiva. Sale di un punto percentuale il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti intensivi pugliesi, che è del 29% contro la media nazionale del 24% e di un punto percentuale sotto la soglia di criticità stabilita dal Ministero. È quanto rileva l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, che pubblica i dati relativi al 25 febbraio scorso. È stabile al 35% invece il tasso di occupazione nelle aree non critiche covid, ovvero nei reparti di malattie infettive e pneumologia. E la risalita della curva dei contagi preoccupa alcuni sindaci, che hanno deciso di emanare ordinanze restrittive. Come ha fatto il sindaco di Conversano nel Barese, Giuseppe Lovascio, che da oggi e fino al prossimo 7 marzo ha imposto il divieto di muoversi sul territorio comunale dalle 4 del pomeriggio alle 7 del mattino del giorno successivo per i minori di 16 anni, se non accompagnati da un genitore o familiare maggiorenne. La misura è solo una delle disposizioni contenute nel provvedimento, che fissa anche il divieto di spostamento nel paese dalle 8 e mezza di sera alle 5 del mattino, che consente nella stessa fascia oraria di portare in giro i cani, ma solo in prossimità della propria abitazione e chiude le attività sempre dalle 20 e 30 alle 5. L'ordinanza sospende anche il mercato settimanale del venerdì e chiude parchi, giardini e campetti. A Cassano delle Murge, sempre nel Barese, il sindaco Maria Pia di Medio ha firmato un'ordinanza che dispone dal prossimo 1 marzo e fino all'8 la sospensione dell'attività scolastica in presenza in tutti i plessi dell'istituto comprensivo per Otti Ruffo a causa dell'aumento dei contagi da coronavirus. Sarà adottata lunedì prossimo, invece, la determina regionale di attivazione dell'ospedale realizzato nella Fiera del Levante di Bari. Lo ha annunciato il presidente della regione, Michele Emiliano. Il provvedimento definisce le modalità operative della gestione della struttura da parte del Policlinico di Bari e tratta tutti gli interventi amministrativi, tecnici, strumentali, procedurali e gestionali che sono stati propedeutici e necessari all'attivazione dell'ospedale. I padiglioni della Fiera usati per allistire 152 posti letto sono il 7, il 9, il 10, l'11 e il 18 che sono stati temporaneamente requisiti. E la regione ha siglato anche un accordo che prevede il coinvolgimento dei medici di famiglia di continuità assistenziale del 118 nella campagna di vaccinazione contro il coronavirus riservata a insegnanti e personale delle scuole. In Puglia è stato somministrato il 69,4% delle oltre 340.000 dosi di vaccino anti-covid consegnate. Il dato, fornito dal Ministero della Salute, è aggiornato alle 8 di oggi. Delle oltre 236.000 dosi, quasi 158.000 sono andati a operatori sanitari e sociosanitari, quasi 26.000 a over 80 e quasi 10.000 al personale scolastico.